Per molti orlandini residenti all'estero arriva una notizia importante. Utilizzando la norma contenuta nella legge di stabilità 2014, l'amministrazione comunale di Capodorlando ha inserito nel regolamento IMU che il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare nel prossimo mese l'assimilazione delle case possedute dagli orlandini che non vivono in Italia aventi titolo di proprietari o di usufruttuari alla prima casa. Per queste abitazioni quindi la liquida scenderà dal 9,6 per mille al 2 per mille. In sostanza, grazie alle detrazioni previste nella liquida massima a Capodorlando, anche gli orlandini che vivono all'estero beneficeranno della pressoché totale esenzione sulla prima casa a condizione che la stessa non sia data in affitto. Un'agevolazione importantissima anche perché in pratica con la liquida del 2 per mille pagano soltanto i proprietari di abitazioni molto estese o di particolare pregio catastale nonché i proprietari di seconde case. Un risultato secondo l'amministrazione possibile soprattutto grazie alla caccia all'evasione. Il recupero delle vaso infatti potrebbe compensare la quota di imposta che non si incasserà per la politica sociale e dall'amministrazione che di fatto permetterà a quasi il 90% dei proprietari di prima casa a Capodorlando di non pagare o soffruendo dei bonus previsti sulla liquida di base. Gli incassi IMU per la città paladina rappresentano la più grossa fetta delle entrate e con la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa la quota di bilancio preventivata è salita per il 2012 a 2 milioni 900 mila euro mentre per l'anno 2011 era stata di 2 milioni 100 mila euro.